Nel mondo delle crypto, seppure ancora limitato, c'è purtroppo anche l'utilizzo illegale dei vari token. Si tratta di un argomento che sarà oggetto di discussione all'interno di un convegno dal titolo utilizzo lecito ed illecito dei crypto asset. L'incontro è organizzato dall'osservatorio blockchain e web free del Politecnico di Milano dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Il convegno si terrà il 20 settembre prossimo e sarà possibile vederlo via streaming sulla pagina internet del Politecnico di Milano stesso. Tra i relatori del convegno il Maggiore Simone Vecchiarello, comandante della sezione criptovalute del comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria. Gli abbiamo chiesto allo stato attuale quali sono i maggiori crimini che vengono realizzati nel mondo delle cripto. Nel mondo delle criptovalute i principali reati riguardano sicuramente i reati di riciclaggio e della vendita illecita di beni come stupefacenti, documenti falsi, banconote contraffatte, sul dark web e sui social network. È una nuova modalità criminale delle reti criminali che adottano queste nuove tecnologie come ad esempio l'accesso allo stesso dark web dove per accedere è necessario avere ad esempio degli strumenti specifici come l'utilizzo di browser come Tor e connessioni VPN specifiche. Il problema principale è che queste connessioni sono anonime, sono connessioni difficili da rintracciare poiché utilizzano server sparsi in tutto il mondo e anche quando vengono svolte le indagini da parte nostra ci sono delle difficoltà oggettive perché anche solo interfacciarsi a livello internazionale con operatori esteri sono modalità talvolta difficoltose. Maggiore, ma è questa attività sul dark web? Un esempio concreto, come può avvenire un'attività illecita? Un'attività illecita può essere ad esempio una vendita di un bene illecito come parliamo spesso di stupefacenti. Basta immaginare che nel dark web esistono delle vere e proprie vetrine, un po' come conosciamo nella normalità eBay o Amazon dove una persona una volta collegato ad un link specifico e univoco può accedere a questo mercato elettronico e monitorare tutta una serie di prodotti in vendita. Questi prodotti possono essere appunto stupefacenti, banconote, documenti contraffatti, anche talvolta armi e possono essere scelti, messi nel cosiddetto carrello e una volta inseriti nel carrello eseguire il pagamento. È qui che avvengono poi i pagamenti in criptovalute. I cryptoasset in questo caso vengono utilizzati come pagamento digitale di questi beni che verranno poi successivamente spediti direttamente al diretto interessato a casa tramite servizi postali. Insomma una sorta di shopping di prodotti illeciti di attività criminali che vengono pagati con cryptoasset. In questo periodo però si parla anche dell'espansione nel mondo cripto e del riciclaggio di denaro sporco. Maggiore come avviene concretamente da parte dei criminali l'attività di far perdere le tracce, di non far vedere dove arriva il denaro dell'attività illecita? Partiamo col dire che i criminali possono generare wallet e portafogli elettronici dove ricevono poi le criptovalute a seguito di pagamenti per beni illeciti direttamente su un telefono o su un computer. Questi software vanno a generare il cosiddetto wallet, il portafoglio elettronico. Viene generata una chiave alfanumerica dove può essere ricevuto ad esempio bitcoin o altro tipo di criptovaluta. Questi cryptoasset una volta ricevuti in questi wallet, in questi portafogli elettronici possono essere inviati su un exchange, su un mixer o su bridge. Ecco è qui che i criminali vanno poi a riciclare i fondi attraverso l'utilizzo proprio di mixer in particolar modo e di bridge. Maggiore, che cos'è un mixer? Un mixer è uno strumento, un tool sulla blockchain che va a mescolare quello che sono i fondi di altri utenti con i fondi anche dei criminali. Questo accade molto spesso, abbiamo vari esempi di mixer come ad esempio Tornado Cash che sono anche stati sanzionati dagli Stati Uniti, dove abbiamo milioni e milioni di dollari che entrano ed escono tutti i giorni, tutti dentro ad uno stesso wallet. Capite bene che quando vengono inviati da 100 utenti diversi i fondi, tutti allo stesso, diciamo così, IBAN, lo stesso wallet portafoglio elettronico e poi escono dallo stesso portafoglio elettronico, risulta molto difficile andare a tracciare dove stanno andando i soldi partiti dall'esterno fino all'interno. È una sorta di lavatrice elettronica dove mettiamo dentro tutti i panni e non si capisce quali sono i panni del criminale e i panni invece delle persone oneste. Lei ha fatto riferimento anche ai bridge, cioè ai ponti. Di cosa si tratta in questo caso? In questo caso bisogna innanzitutto specificare che sulla blockchain, sulle criptovalute esistono diverse tipologie di blockchain, non esiste ovviamente soltanto bitcoin. È da tenere presente che bitcoin è la blockchain principale, parliamo di una capitalizzazione di mercato molto elevata, circa 1200 miliardi di dollari ad oggi, però esistono tantissime altre blockchain come Ethereum, come Matic, Monero e altri. Ora, nel momento in cui ho la necessità di trasferire bitcoin in Ethereum, ad esempio, che è un'altra blockchain, vengono utilizzati questi bridge. Questo ovviamente va a creare ulteriori difficoltà nel tracciamento, poiché il salto da una blockchain ad un'altra è una transazione che crea delle difficoltà proprio per l'analisi e il seguire questi fondi. Però viene da chiedersi, la blockchain è un qualcosa di trasparente, è fatta per avere le registrazioni di tutti i trasferimenti, è immutabile, ma come mai viene utilizzata dai criminali, visto che in teoria dovrebbe permettere la tracciabilità al di là delle problematiche di cui abbiamo parlato fino adesso? Assolutamente, se parliamo ad esempio di bitcoin noi lo definiamo non anonimo, ma pseudo-anonimo, proprio perché, come lei ha detto, esiste una blockchain, ovvero un registro dove vengono inserite tutte quante le transazioni, ci sono le transazioni dall'inizio fino ad oggi, milioni e milioni di transazioni, e possono essere tracciate da un indirizzo a un altro. Quindi il tracciamento può essere effettuato. Il problema è la criticità, ed è perché si vengono definite pseudo-anonime, è perché la generazione di questi wallet, di questi portafogli elettronici avviene in maniera totalmente anonima, ovvero io posso avere un software su un telefono, generare questo wallet senza l'utilizzo quindi di un'identità, di un nome utente, un'email o un numero di telefono, e ho questo portafoglio sul mio cellulare ma nessuno sa che è realmente il mio, lo saprà soltanto chi mi invierà dei fondi perché io lo fornirò questo wallet e quindi conosce la mia identità. Ecco perché viene definita, ad esempio, la blockchain bitcoin pseudo-anonima. E questo pseudo-anonimato è così problematico per quanto riguarda l'attività di tracciamento? Lo pseudo-anonimato non è un problema per il tracciamento poiché noi con gli strumenti che utilizziamo sono ovviamente strumenti specifici e specializzati di analisi sulla blockchain, riusciamo comunque a de-anonimizzare, questo è il termine che utilizziamo solitamente, i titolari di questi wallet e questi portafogli. Perché? Perché molto spesso quando vengono ricevuti bitcoin, ad esempio su un portafoglio elettronico, questi bitcoin ho la necessità di convertirli, ad esempio in euro, su un exchange. Ecco è lì il momento, il punto in cui viene identificato un soggetto, poiché un exchange, come ad esempio ne esistono tanti, Binance, Coinbase, Kraken, hanno la necessità di identificare il soggetto che riceve o invia bonifici in euro e questo è il momento in cui le forze dell'ordine riescono a identificare un soggetto. Bridge, mixer e attività illecite, tutto interessante, però secondo China Analysis nel 2023 il controvalore delle attività illecite è inferiore all'1% di tutte le attività che vengono svolte con le criptovalute. Maggiore, non c'è un eccessivo allarmismo? Il problema principale è che è vero che si tratta dell'1%, ma è l'1% innanzitutto identificato come transazione illecita. È ovvio che ci sono numerose altre transazioni che non sono identificate e ad oggi è impossibile quantificarle. Il problema principale a mio avviso è la decentralizzazione di questo sistema di pagamento, perché è un sistema di pagamento decentralizzato, non c'è un ente dietro che regolamenta questo tipo di pagamenti e quindi diventa difficoltoso poi andare ad individuare quelle che sono le transazioni illecite e anche bloccarle. Quindi questo è un po' l'allarmismo che c'è dietro questo fenomeno, questo tipo di tecnologia.